L'industria del futuro, le sue sfide, le sue opportunità al centro della seconda edizione di Toscana Tech, la manifestazione organizzata dalla Regione Toscana su digitalizzazione e industria 4.0 al Palazzo dei Congressi di Villa Vittoria a Firenze, due giorni di incontri ed eventi aperti da una sessione plenaria dedicata alle strategie da adottare in un'epoca di grande competizione per l'industria, in particolare Toscana. Toscana Tech è questo, è l'occasione per saldare il nostro mondo, cercare di metterlo nella condizione di essere testimone delle proprie eccellenze, far sì che i vari distretti nei quali è organicamente letta la nostra capacità produttiva possa portare al meglio in efficienza i propri cicli produttivi, le reti e le filiere produttive. Nel percorso espositivo 40 Imprese 40 e mostra i prototipi realizzati da imprese e università con gli investimenti della Regione Toscana e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, progetti suddivisi in cinque aree, dalla mobilità alla sicurezza all'equilibrio dell'ecosistema. Proprio le strategie per far convergere gli obiettivi del sistema dell'alta formazione con quelli del sistema produttivo sono stati al centro di un incontro sulla collaborazione tra università e imprese. Occorre capire quali sono i vincoli che frenano l'università dalla costruzione di percorsi che siano davvero efficaci per le imprese e dall'altra parte bisogna anche far conoscere alle imprese quali sono le opportunità che la formazione di terzo livello porta. Grazie a tutti.